Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86 e sono qui oggi in un mio nuovo video su Last Day on Earth Survival Ragazzi sono qui oggi per salutare ancora qualche mio iscritto, anche se c'è la mia cagnolina che sta rompendo il cazzo Non so se la vedete che mi continua a mordere la mano e non riesco a fare un cavolo No, porca Ecco Ora io saluterò alcuni miei iscritti ragazzi Quindi ripeto sempre la stessa cosa in ogni video Se qualcuno di voi vuole essere salutato mi scriva E spero di non aver dimenticato nessuno, mi sono segnato un po' di nomi anche se molti veramente sono difficili Quindi ragazzi cercate di modificare i vostri nomi e renderli un po' più facili e più leggibili Perché veramente sono dei nomi molto ma molto incasinati Parto subito con salutare Leo7200ita Liam Bologna Domi Bolt 171 FG4 Besim Rustemi Pinolo 1 Pinolo 1 Small War Aurora Forloni Scusate un attimo God's Night Wolf The Gamer of Gangster Vegas The Gamer of Gangster Vegas Red W Royal DJ Emile 4 Fuck Yeah 25 Enemy Turtle Enemy Turtle 99 71 99 71 Gabriele Grillo Reine Sriua Nicolò Baldo Prop per Ez Pier Davide 2 Pier Davide 2 L'Occi 2 Bilal Acri God's X1 Alfredo Vasquez E Simone Medda Ragazzi io ho salutato alcuni Sono tutti quelli che mi hanno scritto Che mi sono dimenticato Che mi hanno fatto notare Che mi sono dimenticato di salutare Quindi vi saluto a tutti Ho una premessa da fare ragazzi Io Questo canale l'ho creato Per divertimento Per creare amicizie Con i miei iscritti Per questo gioco E per altri giochi Non voglio assolutamente Che le persone si iscrivano Al mio canale Solamente per essere salutati E poi si disiscrivono E la stessa cosa vale Nei piccoli ricatti Alcuni mi hanno ricattato Non dico tutti Però alcuni mi hanno ricattato Dicendomi Per favore Mi Mi sponsorizzi E poi alla fine Quando io gli ho detto di no Ma non per altro Perché comunque Come mi sono fatto il culo io A tirarmi su Gli iscritti Voglio che se lo fanno anche loro Ma è giusto così Io se sponsorizzo qualcuno Lo faccio dal cuore Ma non voglio che Se io dico di no Quella persona Poi si disiscriva dal mio canale Così È un po' un ricatto Quindi ragazzi Se dovete iscrivervi solamente Per essere Nominati nei miei video O solamente per così tanto per fare Evitate Io preferisco avere Pochi iscritti Ma buoni E dopo questi Dopo i saluti E dopo queste Piccole storie Chiamiamole così Andiamo a farci un piccolo combattimento Nella foresta gialla Sono ancora qui ragazzi Perché Mi serve un po' di legno Quindi Prenderò i materiali delle casse Ma prenderò anche il legno Quindi Farò un po' di Di legna Insieme a voi Ah Ho un appunto da fare Io in questi giorni Shopperò Voglio shoppare I materiali Per i mezzi Per vedere se Per i veicoli Per vedere se Mi danno il manubrio La tannica O La trasmissione Per la tv Oppure Prenderò solamente Le gemme Perché voglio raggiungere L'aereo Voglio provare Prima a raggiungere L'aereo E vedere se li riesco A trovare lì dentro Altrimenti Shopperò I pezzi Per i veicoli Ma andiamo dentro Aspettate ragazzi Che prima controllo Qua se è tutto a posto Ho il macete Tutto Ok Andiamo dentro A farci Una grandissima battaglia Ragazzi Se Un'altra cosa Tanti di voi Mi hanno detto Ah ma perché Se avete sentito Un tonfo La mia cagnolina Si stava leccando Ed è caduta Giù dal letto Vabbè Un'altra premessa Molti di voi Mi hanno detto Eh ma non stare lì A fare video Che raccoglie risorse Ragazzi Io Metterò Tutto Sui miei canali Perché io L'ho fatto Per essere libero Di caricare Quello che voglio Poi se voi Non volete Guardare i video Non guardateli Nessuno vi costringe Quindi Ragazzi Vi dico Se volete Guardare i miei video Li guardate Se non volete Non li guardate Cioè Nessuno vi costringe Io caricherò Sempre Eh Video Un po' di tutto Metterò Un po' di tutto Diciamo Andrò a fare risorse Andrò A recuperare materiali E lo farò Perché Comunque Il gioco è questo E voglio Che comunque Eh Cioè Ogni parte del gioco Sia presente Nei miei video Ora io Non vado Piano piano Voglio subito Ammazzare Tutti gli zombie Ragazzi Per prendere Le casse Così almeno Mi faccio In fretta Le risorse E poi Torniamo Nella mia base A A controllare Le ultime Innovazioni No Non ho fatto Niente di nuovo Ho aggiunto Un paio di muri Eh Di pietra E sto cercando Di fare Almeno La prima stanza Tutta di pietra Maledetto Sputatore Quelli li prendo Così almeno Ho qua L'altra cassa Ragazzi Prima ho fatto La stessa risorsa Qua E ho trovato Due casse vuote E Veramente È stata Una sfiga Totale Andiamo in giro A controllare Se ci sono altre Casse Qua arriva Un altro Sputatore Maledetto Un altro Dietro Sono salito Ragazzi Livello 74 Credevo Di essere Già Livello 74 Invece Sono salito Adesso Ammazzerò Tutti Gli zombie Così almeno Non mi vengono A rompere Le scatole Mentre sto Recuperando I materiali Guardate Quanti ce ne sono Ogni volta Che salite Di livello Ragazzi Aumentano Quindi Veramente Sono diventati Tantissimi Io vado Diretto Senza Dar piano Piano Perché Voglio fare Le cose Un po' Più Sbrigative Sono rimasto Nudo Ragazzi Ammazziamo L'ultimo Zombie Anzi No Ce ne sono Ancora Due Qua E poi Dal Ciccione Andiamo Piano Piano Così Almeno Gli togliamo Un po' Di vita Ragazzi Un po' Più Di vita Ok Così Almeno Ok Perfetto Ora Non è che Mi sia Rimasto Tanto Spazio Ecco Che è Arrivato Lo zio Che mi dà Tutti i suoi vestiti E niente Adesso Lo lasciamo lì Anzi Mi prendo i due tronchi Magari Magari faccio due tronchi Giusto per Per non andare via Mani vuote E poi Casomai Torneremo qui Ragazzi Ultimo periodo Mi sta dando Veramente Di sfiga Sto morendo Quasi sempre Perché Comunque Mi sto beccando Di quei Di quei player Super attrezzati E mi uccidono Come Come niente Io non andrò Mai a scioppare Le armi Ragazzi Perché se mi ammazzano Perdo tutto Preferisco Scioppare I pezzi Dei veicoli Io mi prenderò Questa E metterò Giù il cibo Così Mi farò Ancora un po' Un altro Po' di legna Che ce l'ho Bisogna Perché ragazzi È inutile Andare a scioppare I pacchetti Delle armi Che poi vi ammazzano Magari siete in giro Siete distratti O comunque Se vi ammazzano Nella vostra base Fa niente Riuscite a recuperarli Ma se vi ammazzano qua Se tornate indietro Poi Non li trovate più Quindi È inutile Andare a scioppare Ecco qua Un altro amico Che mi dà i pantaloni Lo ammazzo a pugni Magic E muori Mi prendo I pantaloni La maglietta Che dà E le scarpe No Le scarpe Sono meglio queste Perfetto Pensavo che aveva Anzi Andiamo da questo qua Che aveva L'accetta Così ci facciamo L'altro popò Di legna Dobbiamo riuscire Ragazzi A fare Sta cavolo Di antenna Così creò L'alleanza Il clan Scusate E poi Piano piano Intanto che potenzio Tutto Vediamo come funziona Bene bene Perché ancora Non è che abbia capito Più di tanto Facciamo Tutto quello che serve Potenziamenti Mica potenziamenti Vediamo se non muoio Intanto lo prendo Ammazzate Ok Qua avevo preso Tutto Ragazzi Possiamo tornarcene Indietro Poi nel caso Torniamo qua Visto che mi sono fatto Qualche macete Tanto ciò Ho cento di energia Ragazzi Possiamo tornare qua Oppure andare Nella risorsa Di pietra Sempre gialla Non vado nelle rosse Perché La brutta esperienza Di ieri Con Col big one Visto che tanti Mi correggono Io l'ho chiamato Megazombie Ragazzi Perché Comunque È uno zombie gigante Si chiama big one Ma è più bello Megazombie Cioè A me Mi ispira di più Megazombie Che big one Cioè Alla fine Meglio megazombie Dai Datemi ragione Dai Torniamo alla mia base Ragazzi L'utilizzo Se molti di voi Non sanno Il tappetino Che io non l'ho craftato Ma l'ho trovato Serve Da mettere davanti Alla porta Così ogni volta Che voi entrerete Invece di spawnare Sul lato della mappa Sempre nella vostra base Però In luoghi diversi Della mappa Spawnerete Davanti Spawnerete Davanti Alla porta Della vostra Base Quindi io qua Metterò A fare le assi Che le avevo messe Per Per fare Le mura E i pavimenti Ho aggiunto Questi due muri Qua davanti Se li vedete Ho aggiunto Un po' di pavimenti Ho fatto un'altra Cassa qua Vuota Che qua ci metterò Delle cose in più Le ho modificate Tutte le casse Le ho lasciate Tutte Ho fatto quelle Più grosse Andiamo a mettere I materiali Nella tv I motori I motori Mettiamo tutte le cose che servono Un'altra ruota Così arrivo a 5 E ecco E ecco Ho dimenticato I fili elettrici Ok Ora metto giù il materiale Perché comunque Ora mettere giù tutto il materiale Per non andare via Per non andare via Con lo zeno pieno Questi me li porterò dietro Questi ora ci faccio le bende E questi E l'unico tronco che mi è rimasto Lo metto qua Almeno faccio una Una carotina Mi voglio craftare Le bende Ok Qua mi sembra che ne avevo fatto ancora No? Le avevo presi prima Quindi andrò a mettere le bende qui Bevo un po' d'acqua Mangio Vado a mettere Le bottiglie a riempire Prendo le altre due Le altre le lascio Perché sono un po' troppe Raccolgo le carote Adesso ascolterò il consiglio Di uno di voi Che mi ha detto di fare L'orto Dentro la casa Lo farò dietro Adesso vediamo Magari lo farò dietro Da questo lato Perché davanti Non posso più costruire Cioè posso costruire Ma Hai poco lo spazio Adesso magari Se dietro di qua O da questo lato Vediamo di fare Un orticello Un po' più grande E mettere E mettere Però prima voglio fare Tutte le mura in cemento A meno queste qua Centrali Tutta la casa Il rettangolo qui Che vedete Che ho fatto quasi tutto Con le seconde mura Voglio farlo tutto in pietra E poi Piano piano Farò Qua ho fatto un'altra stanza Così Giusto perché avevo messo L'insieme di porte Per mettere qualcos'altro Adesso vediamo Poi cosa facciamo E farò Quando farò Tutta la casa in pietra Da questo lato Dietro Metterò l'orto Dentro le mura Così almeno Evitiamo che la gente Ci fotta le cose Anche quello per l'acqua piovana E tutte quelle cose lì Recuperiamoci Il nostro macete Lo equipaggiamo Questa ce la portiamo Sempre dietro Di scorta Mettiamo giù Le nostre carottine Le mettiamo qua Lascio giù Anche un po' D'acqua Perché tanto È inutile Che me la porto Dietro tutta Mi porto dietro Queste poche carote Qua Tanto siamo a posto E andiamo Ragazzi Nella risorsa Gialla di pietra Vediamo qua Come siamo messi Sì facciamo una cosa Veloce ragazzi Arrivo a 25 minuti E andiamo a prendere Nelle casse E vedere cosa troviamo dentro Cerchiamo di trovare Qualche bel materiale Qualcosa di nuovo Magari E andiamocene qua Ragazzi Non vedo l'ora Di superare Con la tv Andare Qua no Perché serve il clan Però magari andare Nelle nuove foreste A sbloccare le antenne Per vedere cosa c'è Al di là della mappa Andare nella nuova casa Qua del tizio Non vedo l'ora Ragazzi Veramente Molti di voi Dicono Che i pezzi Della tv E Della moto Del chopper Non ci sono Invece ci sono Ragazzi Bisogna avere Culo a trovarli O shoppare Come farò io Penso Perché Veramente Mi sto abbastanza Rompendo le palle Di rimanere fermo Così E di fare i soliti Video Voglio fare qualcosa Di più Quindi Magari Farò Un piccolo Shopping Adesso Vediamo Se Se acquisto Solamente Le gemme O il pacchetto Per Per recuperare I pezzi Dei veicoli Sperando Che le diano Perché Talmente Siamo Sfigati Io Soprattutto Che Sarà un po' Difficile Magari Li troviamo Tutti Magari Ci da Solamente Un pezzo Qua Recuperiamoci Tutto No Sono andato Troppo avanti Ok Vediamo Cosa ci da Di bello Soliti Pezzi Questi Li lasciamo Giù Questo Anche Che tanto Ce li ho Quelli Li recupero Ragazzi Perché Sono utili Andiamo Qua Qua L'avevo Già Presa La cassa Andiamo Prima Dal Ciccione Così Ci recuperiamo Il materiale Per Craftarci Le Bende Di qua Qua non c'è Niente Qua ci mangiamo La bistecchina La bistecchina Così Lasciamo Poche cose Indietro Scusate Se guardo Ogni tanto Ma è per Correttezza Questa la Lasciamo giù Tanto siamo Già andati Ragazzi Ragazzi Se dovete salire Di livello Lo ripeto Lo dico Per tutti L'unico Modo È Craftare Andare in giro A raccogliere Le risorse E ammazzare Zombie Questo qua È il modo Più facile Per salire Di livello Poi vabbè Comprandovi Quelli Per aumentare La L'esperienza Con quella Li Aumenterete Ancora di più Io adesso Ragazzi Ammazzo Li zombie Così Giusto Per non Lasciarli In giro Che ce ne sono Tanti Di sti maledetti E Basta Visto che Non c'è più Niente Non sto qua A perdere Tempo Perché Se no Facciamo Il video Di mezz'ora E mi sembra Un po' Troppo Avevamo Preso Tutto C'era Vabbè Con le cose Lì Non ce ne Facciamo Niente No Porca Puttana Ragazzi E' arrivato Tipo Con la Pistola Stavo Morendo Maledetto Maledetto Avevo Avevo poche Bende Ragazzi Se no L'affrontavo Avevo poche Bende Se no L'affrontavo E voi E voi Vi sembra Giusto Che adesso Sia arrivato L'aereo E servono 68 Punti D'energia Maledetti Non potevano Ehm Adesso cercherò Inferno Inferno Alla Prossima